Gli alpigiani sono preoccupati per le predazioni del lupo e chiedono aiuto. L'appello è stato raccolto nei giorni scorsi dal sindaco di Santa Maria Maggiore. Claudio Cottini, dopo l'ultimo attacco del lupo ad agosto all'Alpesoglio, dove sono stati presi di mira alcuni vitelli, aveva preso carte penna chiedendo alla regione interventi risolutivi. La permanenza in alpeggio da parte degli elevatori, scriveva Cottini, è sempre più insostenibile. Vivono nel terrore del lupo e chiedono aiuto agli ultimi baluardi del territorio, i sindaci dei comuni montani, che però, come in questo caso, non possono fare altro se non sensibilizzare le istituzioni affinché adottino provvedimenti decisivi. Si dice che, proseguì a Cottini nella sua lettera, occorre trovare una forma di convivenza tra la presenza del predatore e la permanenza della zortenia di montagna, già fortemente diminuita. Allora si proceda affinché la convivenza permetta all'uomo di poter serenamente condurre i pascoli estivi e il bestiame e se il numero di capi ha raggiunto un livello soddisfacente per la salvaguardia della specie, come è giusto che sia, se ne riduca il numero. Non si è fatta attendere la risposta della regione. Da anni, afferma l'assessore agricoltura Marco Protopapa, siamo impegnati a fianco degli elevatori per sostenere l'attività zautenica in montagna. Nel 2021 la regione ha aumentato da 200.000 a 300.000 euro, la dotazione finanziaria rivolta agli elevatori a sostegno dei costi per la difesa del bestiame e per il risarcimento dei danni causati dalle predazioni da grandi carnivori selvatici al patrimonio zooltenico piemontese. La regione, sottolinea l'esponente della giunta Cirio, è impegnata non solo per tutelare l'allevamento in montagna, ma anche per l'approvazione del Piano Nazionale di Conservazione e Gestione del Lupo in Italia che permetterebbe di mettere in atto ulteriori sistemi di difesa e di gestione della sua presenza.